No, la domanda è formulata male, non abbiamo detto di sì a tutte le posizioni della Lega, se lei va a guardare quello che è stato approvato da questo Governo, credo che su dieci provvedimenti, mi faccia confinire, credo che su dieci provvedimenti, nove sono del 5 Stelle e uno della Lega. Questo Governo ha lavorato, io non rinnego quello che abbiamo fatto, ho una parola e quella parola la porto avanti. Quindi il lavoro che è stato fatto è stato fatto prevalentemente tutto dal Movimento 5 Stelle. Dopodiché credo che la menzogna del no eccetera, credo che sia agli occhi di tutti evidente come non mai. Quindi direi, poi se voi volete continuare ad assecondare narrazioni di no eccetera, i nostri no, fermi, 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 e poi finisco.